Un saluto a tutti, a tutti gli appassionati di scienza che quest'anno sono rimasti senza la nostra rassegna Scienza Ultima Frontiera, ma che sono in attesa di averla e che faremo sicuramente, non appena questa pandemia ci lascerà tornare a vederci di persona, e a fare quello che a noi piace, cioè portare i grandi scienziati in mezzo alla gente a parlare un linguaggio semplice e a rendere le scoperte più avanzate della scienza pane per tutti. Saluto il nostro ospite Michele De Luca, ciao e grazie, che sarebbe stato e probabilmente sarà l'ospite di apertura della nostra rassegna, la rassegna come vedete alle mie spalle che si occupa di corpo e salute, noi l'abbiamo decisa prima che succedesse tutta questa pandemia, ti ricordi ti abbiamo invitato ancora a gennaio. Ecco per presentarti è difficile bene dire chi sei, perché se io dico Michele De Luca è un medico, tutti mi capiscono, però mi chiedono ma di cosa si occupa? È di medicina rigenerativa, è di terapia genica, a questo punto secondo me abbiamo già perso tutti, quindi puoi presentarti e dire di cosa ti occupi, qual è il tuo lavoro? Ok, allora io mi occupo di medicina rigenerativa con cellule staminali, con alcune cellule staminali, quindi facciamo un po' di chiarezza, che cos'è la medicina rigenerativa? La medicina rigenerativa è una branca della medicina nuova, in sviluppo, spesso ancora altamente sperimentale, anche se ci sono già delle terapie consolidate, delle quali poi eventualmente parliamo, che è un po' diversa da quella che è la medicina tradizionale, la medicina del farmaco, che interferisce con una serie di processi nel corpo umano per tenere sotto controllo una patologia, che è differente da tutta la parte della chirurgia, dove tendenzialmente si taglia, magari si ricuce, ma si taglia, e ha un obiettivo piuttosto ambizioso, che è quello di ricostruire, rigenerare, ricostruire dei tessuti che sono distrutti, cosa che non fa né la farmacologia, e la chirurgia fa in qualche caso relativamente, ma pensiamo per esempio ai trapianti, eccetera, no, questa è una cosa completamente diversa, io conosco un tessuto e lo voglio ricostruire, lo voglio ricostruire ex vivo, cioè lo voglio ricostruire nella grande maggioranza dei casi in laboratorio, per cui devo capire come funziona quel tessuto, ci vuole tanta ricerca di base, una volta che l'ho ricostruito, che è quello che facciamo a noi, lo riporto sul corpo umano. Per fare questo, spesso tu hai bisogno di cellule staminali, perché? Perché ci sono alcuni tessuti nel corpo umano che sono, come dire, stabili, ma moltissimi tessuti si rinnovano. Noi per esempio sostituiamo, non lo sappiamo, non lo vediamo, per noi sostituiamo tutta la nostra pelle, che è un tessuto grandissimo, non sono un metro quadrato e mezzo, due metri quadrati, lo sostituiamo ogni mese, due mesi, completamente. Pensate che noi sostituiamo, per esempio, che ne so, l'intestino, l'epitelio intestinale, tutte le settimane. Il nostro sangue viene rigenerato ogni tot numero di mesi, se non mi ricordo quanti, tre, quattro, o la cornea che viene sostituita ogni sei, sette, otto mesi. Per fare questo, questi tessuti che si rinnovano hanno bisogno di avere al loro interno una popolazione di cellule che è deputata a questo e sono le cellule staminali adulte somatiche. Quindi questo sistema di rinnovamento di questi tessuti costanti e continuo deriva dal fatto che abbiamo queste cellule staminali che continuano a produrre per tutta la vita le cellule che compongono quel tessuto. Quindi, se io voglio fare medicina rigenerativa con le cellule staminali somatiche, devo conoscere queste cellule, le devo poter coltivare, devo capire tutti i meccanismi che sono alla base della loro biologia per poter cercare di ricostruire questo tessuto. Ora, questo si è riusciti a ottenerlo, certamente, per il momento con dei tessuti più semplici. Per esempio, noi ci occupiamo di epitelio, cioè tutte le cellule che rinestrano il nostro corpo, la cornea, la congiuntiva, la mucosa del cavorale, l'epitelio cucurale, e sono i tessuti epiteliari che rinestrano il nostro corpo. Siccome sono tessuti semplici e possiamo coltivare le cellule staminali, su questo, poi ti dico che cosa facciamo, siamo riusciti a farlo. Il sangue è un altro tessuto concettualmente semplice, perché è fatto di tante cellule complicate, i rossi, i bianchi, i linfociti, le cellulettie, eccetera. Però deriva da un tessuto, tra virgolette, liquido, si possono isolare le cellule staminali del sangue e si possono reinfondere, quindi ancora più semplici che la pelle, e quindi, per esempio, il trapianto di minollo, che è un sistema per rinfondere cellule staminali del sangue, viene usato in clinica per esempio per il trattamento dei tumori leucemici. Così noi utilizziamo le colture di pelle per le ustioni o le colture di cornea per rigenerare questa cornea. Ciò detto, esiste anche un'altra popolazione delle cellule staminali, che è quella delle cellule staminali embrionali, che sono quelle che si trovano sostanzialmente nella blastocisti, cioè nelle fasi molto iniziali di formazione dell'embrione. Nei paesi in cui la ricerca su queste cellule staminali embrionali è consentita ed è facilitata, anzi, cosa che non è il nostro paese, sto parlando per esempio nei paesi del Nord Europa, il Regno Unito, gli Stati Uniti, eccetera. Quelle cellule staminali embrionali, che sono molto potenti, sono state usate per generare invece dei tessuti nei quali non si trovano più le cellule staminali somatiche adulte. Faccio un esempio. La retina. La retina è un tessuto molto stabile. In realtà cellule staminali della retina che noi possiamo coltivare come quelle della pelle o isolare e rinfondere come quelle del sangue non ci sono. Allora che cosa facciamo? Si prendono quelle cellule staminali madri, che sono quelle immunarie, si insegna a quelle cellule staminali madri a fare per esempio una retina, un epiteno retinico. Questa cosa è già in clinica, è già nelle sperimentazioni cliniche di fase 1, fase 2, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, per cercare di dare una mano alle degenerazioni della macula retinica legate all'età che è una patologia delle persone anziane che porta a cecità. Un altro esempio è quello per esempio dei neuroni dopaminergici che sono i neuroni diputati a fare dopamina che sono in zone precise del cervello e l'alterazione di questi neuroni provoca il Parkinson. Il Parkinson è tenuto sotto controllo dalla farmacologia, però per lungo termine tende a peggiorare il Parkinson. Molti ricercatori nel nord Europa, in Svezia, negli Stati Uniti, in California, sono riusciti a generare dei neuroni dopaminergici partendo dalle cellule staminali e embrionali e sono già in fase di sperimentazione clinica di fase 1 o fase 2 per cercare di ponere meglio al Parkinson. Quindi è una nuova ondata di nuove sperimentali terapie che ha come obiettivo quello di ricostruire dei tessuti e più si andrà avanti nel tempo e più si andrà verso una maggiore complessità. È chiaro che è più semplice ricostruire una pelle o un sangue o nell'ambito del cervello un gruppo di neuroni dopaminergici ed è molto più difficile ricostruire un tessuto tridimensionale come può essere un cuore, un peccato, un polomone. Anche a me ci sono diverse cellule staminali che entrano in funziona lì. Però adesso la ricerca va avanti, si cominciano già a rigenerare in laboratorio abbozzi di organo tridimensionale, che sono gli organoidi e nel corso dei prossimi decenni, esso non so dire quali e quando, però nel corso dei prossimi decenni secondo me la medicina regenerativa prenderà il suo spazio, soprattutto per quelle patologie che non hanno una reale alternativa. Su questo, ma ne parliamo dopo se vuoi, si inseriscono anche le malattie rare. Perché? Perché se io posso ricostruire una pelle da una gelola staminale, perché la conosco e posso fare la pelle, la successiva idea mi viene in mente è quella di modificarle geneticamente. È sempre nel campo della terapia genica, cioè la modificazione di quelle geni, che poi spieghiamo se vuoi che cos'è, fa la terapia genica e quindi posso addirittura fare tessuti geneticamente modificati che possono poi curare eventualmente patologie rare. E chiuso un altro esempio di questo, sia per il sangue e sia per gli epicheri. Ecco, io ti confesso una cosa, mi ero documentato sui tuoi campi di ricerca ovviamente, ma adesso sentirtelo raccontare io mi sento trasportato nel futuro improvvisamente o addirittura quasi nella fantascienza, nel senso che siamo veramente, come dice la nostra rassegna, le frontiere più estreme della scienza e della ricerca, insomma questo è veramente, ed è interessante che il tuo gruppo di ricerca sia in Italia, adesso si abusa un po' dell'espressione centro di eccellenza, lo si dice così tanto che ha perso un po' senso, ma il tuo è un centro di eccellenza con tante persone, tanti ricercatori coinvolti vero? Sì sì, siamo tanti, il centro di medicina ingenerativa che è nato 12 anni fa sostanzialmente con due persone, adesso abitano il centro di medicina ingenerativa tra le 100 e le 120 persone, attenzione però che le persone sono di ruolo dentro l'università di ricercatori, siamo 4 o 5, c'è questa differenza per esempio con molti centri stranieri, i finanziamenti dati al paese Italia per la ricerca non sono neanche non talmente paragonabili agli investimenti per la ricerca fatti per esempio in paesi tipo la Germania, tipo il Regno Unito, non parliamo poi degli Stati Uniti, le procedure anche di pianificazione dei ricercatori, eccetera, sono piuttosto complesse, piuttosto faragginose, io però non voglio fare oggi un discorso politico, non mi interessa, però devo dire che non è assolutamente facile lavorare soprattutto per i ricercatori giovani e anche per i ricercatori vecchi come me, non è che è stato facile, c'è stata una facilità di sviluppo legata a tutta una serie di problemi che riguardano la gestione della ricerca in Italia, dai progetti alle metodologie di concorsi, di assunzioni, ai fondi per assumere cercatori che andrebbe sostanzialmente completamente riformato, però ripeto, parliamo di scienza oggi va. Certo, sì sì sì, una curiosità, io so che tu hai ricevuto un premio, tra i tanti, perché i più bravi scienziati ogni tanto vengono anche riconosciuti, ma nel tuo caso hai ricevuto un premio per un intervento, allora di solito si ricevono premi per ricerche scoperte, ma un premio per un intervento medico, ci vuoi raccontare in breve, poi ce la racconterai quando vieni di persona a Brugherio? Sì, questo fa parte di quello che ti dicevo prima, cioè di una cosa estremamente complicata, molto complicata, che è quella di fare terapia genica, cioè io ho una malattia genetica, che cosa vuol dire una malattia genetica? Soprattutto una malattia monogenica si dice, in cui ho una malattia in cui un gene, perché poi ci sono malattie che sono, che non sono, che non ci hanno solo gene, erano parecchi, quindi andiamo su cose di molto complicato, una malattia monogenica in cui c'è un gene alterato, quel gene alterato provoca una malattia. Alcune di queste malattie possono essere devastanti. Una di quelle di cui ci occupiamo noi si chiama epidermis mollosa o malattia dei bambini farfalla, in cui la mutazione di questi geni fa sì che questi bambini perdano la pelle. senza epidermine, senza pelle, senza epidermine che è la parte più superficiale della pelle, non si vive. Per cui, oppure se le mutazioni consentono di avere una pelle malata ma non assente, si vive molto male, molto male. Noi stiamo cercando, abbiamo già fatto sperimentazioni cliniche di fase 1, di fase 2, e le stiamo continuando a fare con estrema fatica, di perdita di tempo enorme, di soldi enormi, di energie enormi, ma stiamo continuando a farle, le sperimentazioni per modificare geneticamente le gerenze staminali della pelle, fare quindi delle conture di epidermine geneticamente modificate che una volta che tu le metti sul corpo umano, sul corpo, guariscono queste ferite. In tutta questa storia di sperimentazione ci è capitato il caso di un bambino, che poi vi racconterò con le immagini, che è una storia bellissima perché è una storia non soltanto medica, non soltanto clinica, è una storia sociopolitica. Il bambino che ha questa forma grave di epidemonesi bollosa, questa malattia in cui perde la pelle, in un paese come la Siria, quindi dentro una guerra civile, quindi già nei paesi molto avanzati, è difficile trattare queste patologie. Immaginate un bambino che ha questa patologia assolto dentro una guerra civile. La famiglia che non sa cosa e come fare, che fugge dalla guerra civile, arriva in Libano, ma in Libano non riescono a gestire questa patologia. intervengono gli enti sia istituzionali sia le ONG umanitarie. Adesso non mi ricordo bene chi è intervenuto, non mi ricordo quale struttura, quale entità di supporto a queste popolazioni intervenute, fatto sta che riescono a prendere questo bambino e a farlo emigrare fuori da quella zona geografica come rifugiato politico. Fortunatamente per lui è atterrato in Germania, perché se no in quel periodo forse sarebbe stato forse anche bloccato. Lasciamo perdere! Lasciamo perdere! Entra in Germania dove questa famiglia viene accolta, però immagina tu la lingua diversa, il sistema diverso, eccetera. è questa odissea di questo bambino che alla fine sulla patologia, sulla malattia genetica, si instaura una super infezione batterica di tutta questa pelle aperta, quindi sono soprattutto due batteri che sono Pseudomonas e Eruginosa, lo stocchidococcaureo, ma in sepsi perde completamente la pelle, non è più neanche le lesioni bollose che caratterizzano le lesioni bollose, proprio ha perso la pelle, per cui è dovuto essere trasferito in un centro stione pediatrico nel nord della Germania a Bochum, hanno provato di tutto per curargli questa pelle, non ci sono riusciti, il bambino era in coma farmacologico da mesi, era a prognosi totalmente in fausta, stavano addirittura pensando di staccare la spina perché non c'era più niente da fare, finchè mi hanno contattato sapendo che noi stavamo facendo queste sperimentazioni cliniche su quella patologia, proprio su quella patologia, chiedendomi se si poteva inserire questo bambino nella sperimentazione clinica. Impossibile, tanto perché la sperimentazione clinica era in Italia, ma più che altro perché questo bambino era talmente grave che non rispondeva a nessun criterio di inclusione in una sperimentazione. però io sono un po' pazzo, per cui noi sapevamo, infatti io mi ricordo ancora questa riunione fatta con i miei ragazzi qui, dove dicevamo, ma sappiamo che si può fare la modificazione genetica, abbiamo tutta l'esperienza di grandi condizioni di pelle per l'ostione, il gene è questo, ci potremmo anche provare a salvare questo bambino. Cosa che non era semplicissima, anche perché un fallimento sarebbe stato poi, sarebbe danneggiato poi la sperimentazione. Insomma, per farla breve abbiamo risposto ai tedeschi che si poteva fare, che ci si poteva provare al di fuori della sperimentazione come uso compassionevole chiedendo le autorizzazioni agli enti decoratori. gli enti decoratori tedeschi hanno dato l'autorizzazione a questo uso compassionevole dove noi abbiamo mandato tutti i lavori scientifici, tutto quello che aveva in mano, le sperimentazioni, le certificazioni varie, nel giro di meno di un mese. E quindi noi a un certo punto abbiamo cominciato questa avventura coltivando non dei pezzettini di pelle limitati come stiamo ancora facendo delle sperimentazioni cliniche di fase 1 e 2 che stiamo continuando, ma producendo un metro quadrato. Tuttavia è enorme di pelle in cui abbiamo fatto parecchio fatica a controllare quella popolazione di cellule staminali che era importante. Quindi la sfida è stata quella anche di manipolare queste cellule in maniera tale per non fargli perdere la loro fisiologia e il loro numero di cellule staminali. Poi siamo andati con un aereo privato addirittura perché non c'erano i tempi tecnici a centustioni per lavorare con i chirurghi, assieme ai chirurghi, nella sala operatoria perché loro non avevano mai usato queste colture. Quindi non sapevano neanche come maneggiarle. Quindi siamo andati, mi ricordo io, grazie a te da Pellegrini, il mio tecnico di laboratorio storico, Sergio Pondanza che lavora con me da 30 anni, che è quello che fa le colture, perché siamo andati lì con loro e abbiamo fatto due grandi interventi. Il primo solo su tutti e quattro gli atti e il secondo a distanza di un mese sulla parte posteriore. Poi quando vengo vi farò vedere. Certo, sì sì sì. Ragazzi, ha funzionato tutto da Dio. Adesso questo bambino ha cinque anni di follow up. La sua pelle si è completamente rigenerata. Non è che la malattia gli è passata. Lui ha ancora l'epidermulisi mollosa. Ce l'ha ancora. Ma la pelle, quella parte di pelle, che è l'80% del corpo che gli abbiamo trapiantato, è guarita. Ormai ha una pelle, lui riesce a fare attività sportiva, gioca a pallone, va in piscina, va a sotto scontro. La sua pelle non fa più lesioni mollose, anche se lui continua ad avere la patologia. Le uniche zone in cui fa ancora bolle sono quel 20% che non ne abbiamo trapiantato perché all'epoca non era necessario. Infatti stiamo pensando di fare anche quelle zone lì. E' un'osservazione che voglio fare perché ragioniamoci su delle cose, poi c'è tanta confusione in giro. Questo bambino, se vogliamo estremizzare, è un bambino GM. E' un bambino che ha tutto ricoperto completamente di una cellula geneticamente modificata. Porta un gene dentro, la sua cellula naturale è stato corretto. Per cui quella cellula, ma non è che se l'è mangiata con il grano. No, lui ce l'ha costantemente, al nostro ce l'ha per 5 anni. Noi stiamo adesso continuando a fare, ripeto, molta fatica, molti soldi, le sperimentazioni sia su questa forma di malattia, giunzionale, e sia su altre forme di proteamolismo, giunzionale, del tempo, per poter rendere questo risultato una terapia reale per i bambini farfalla che è il mio obiettivo finale che ho, se riesco a farlo, prima di dover, purtroppo, andare in invenzione. Grazie, questa storia ovviamente mi ha commosso e mi ha interessato tantissimo. E penso che tutti quelli che ci ascoltano correranno quando tu verrai a raccontarla in lungo e in largo e anche farci vedere le varie fasi di tutta la scienza, la ricerca e la passione umana che c'è necessaria. Guarda che non è il solo esempio. L'Italia, in questo campo, è all'avanguardia del mondo. C'è un'altra patologia che si chiama la malattia dei bambini in molla. Sono quei bambini che non hanno difese immunitarie, sono tesinati alla morte. E sono curati in Italia, non da noi, ma da San Raffaele, dal gruppo di Alessandro Aiuti, che ha modificato geneticamente, come si è fatto con la pelle, si è modificata geneticamente la staminale del sangue, si mette il gene dentro, si rinforza la staminale, questi bambini vanno a scuola. Meraviglioso, meraviglioso, sì. Adesso però ti devo fare una domanda che penso venga in mente, a me viene in mente, ma penso di interpretare un po' il sentire di molti. La metto in termini anche un po' provocatori, scusami la semplificazione, ma se la medicina è così all'avanguardia, è così avanti, è quasi alla fantascienza, come mai un piccolo virus ha bloccato il mondo? Come mai tante volte si deve dire siamo impotenti, non sappiamo cosa fare? Cos'è giusto? È giusto uno, è giusto l'altro? No, ma sai, è sempre stato così con i virus. Se tu vai a vedere il virus, proprio per il modo in cui è fatto, per il meccanismo con il quale agisce, per il fatto che molti hanno bisogno delle cellule del corpo umano per poter loro stessi vivere, eccetera, no? E storicamente qualche cosa verso la quale una reale terapia non si viene ancora trovata. Cioè se tu vai a vedere una terapia come le persone intendono, no? Una terapia, che ne so, risolutiva, che ne so, ho un'infezione batterica, prendo un potente antibiotico, distruggo tutti i batteri, non c'è più i batteri, oppure ho, che ne so, ho la pressione alta, mi prendo questi farmaci, tengo controllo, con i virus è più difficile, però non è vero che non si è fatto niente. Il virus è stupido, l'essere umano no. L'essere umano è riuscito a evitare questa sua impotenza nei confronti della reale terapia, che poi è relativo, perché poi i farmaci antivirali ci sono, sono anche i farmaci antivirali. Io sto estremezzando un po' per far capire il concetto. e quindi l'umanità si è difesa facendo i vaccini. Quindi non curando la patologia se stessa, ma facendo il vaccino, rendendo una persona... Molte malattie virali, grazie ai vaccini, sono scomparse, attenzione a dire che sono scomparsi, scomparsi dalla patologia del virus. Se noi abbiamo sconfitto che ne so il morbillo, non è che abbiamo che il virus del virus non c'è più, è sempre lì. Quindi se smettiamo di vaccinarci, ricomincia il morbillo. E quindi ci stiamo difendendo. Poi ci sono anche dei virus verso i quali è difficile fare un vaccino, perché non sono intelligenti ma sono stronzi e sono furbi. come si riesce a fare il virus, allora lì si cerca di fare una ricerca diversa sulla combinazione di farmaci, più o meno. Per esempio, guarda come tiro sotto controllo l'AIDS, per esempio, rispetto ai primi. Gli inizi, sì, sì. Noi le armi ce le abbiamo, è fondamentale. Vedi, il problema dei vaccini è un problema serio, che ha a che fare con la memoria. Noi, purtroppo, o per fortuna, le persone che hanno un'età molto avanzata e che portano in sé la memoria di quello che è stato il disastro del 1900, nel periodo della guerra, della seconda guerra mondiale, che sono la memoria di quello che è successo, tendono a scomparire. E quindi la memoria si diluisce e quindi poi si ritorna a fare gli stessi errori che poi hanno portato. ma, di nuovo, non voglio entrare in pensieri di tipo politico. Ma, se vai a vedere, capita la stessa cosa. Noi ci siamo dimenticati perché non sappiamo più che cos'è. Se io chiedo a mia figlia di vent'anni che cos'è la poliomirite, io non lo sa, ma non lo sa. Non neanche la percezione di quella che è la poliomirite. No, che ne so, il vaiolo. Cioè, ne perdiamo memoria. E quindi non ci rendiamo conto di essere arrivati ad avere debellato sostanzialmente la patologia perché noi abbiamo sviluppato i vaccini. e non dobbiamo dimenticarcelo. Soprattutto adesso che viene il vaccino per questa pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, sia come morti che anche come economia, non dobbiamo dimenticarcelo. E voglio fare chiarezza su questa cosa. Cioè, sento delle polemiche in questo momento in giro che ci sono, eccetera. La gente parla spesso e non lo sa quali sono le procedure che servono. Ecco, sì. C'è, e adesso non entro nel dettaglio, ma lo parlo con certezza, nessuna step, nessuna procedura di valutazione di questi vaccini che stanno arrivando è stata saltata. Nessuna. Semplicemente le aziende hanno investito più tempo e più soldi per comprimerli, per farli in maniera parallela rischiando soldi. solitamente ci sono tre fasi di sperimentazione, fase 1, fase 2 e fase 3. Tu fai la fase 1, ci metti in anno, raccogli i dati, le mandi alle telecolatorie, poi chiedi la direzione alla fase 2, raccogli i dati, le mandi alle telecolatorie, fai la fase 3 costosissima su tanti pazienti, eccetera. Il tutto porta via 5-6 anni. Se tu rischi dei soldi e la fai contemporaneamente, e l'hanno fatta su più di 100.000 pazienti a sperimentazione, non su 2 o 3, su 100.000, quando gli enti regolatori, anziché aspettare tutte le carte che ci mettono due anni, cominciano ad analizzare i dati mano a mano che gli ricevano, fanno le task force per analizzare questi dati, è chiaro che si comprime il tempo da 4-5 anni a un anno e mezzo. Siamo stati anche un po' fortunati che il vaccino pare che funzioni. Certo, sì. Ma sempre questa cosa qua non si può fare per ogni farmaco che viene sviluppato. Si è fatto in questa circostanza perché c'è una pandemia. Ma io voglio tranquillizzare tutte le persone che nel momento in cui un ente regolatore esterno, che non è l'azienda, non è l'amministratore delegato di quell'azienda, non è la stampa o il giornalista, ma un ente istituzionale credibilissimo che è l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco o la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, l'FDA, mettono e danno l'approvazione per questo tipo di vaccino. Tutte le prove di sicurezza ed efficacia le hanno valutate. ma non finisce mica lì. Nel momento in cui questo vale per tutti i farmaci. Nel momento in cui tu poi lo somministi. Non è che la gente se ne frega. Niente i lavoratori fanno quello che si chiama farmacovigilanza che dura anni per andare. Io prendo un farmaco antipertensivo approvato dall'EMA, dall'FDA e lo prendo tranquillamente perché hanno fatto tutte le prove che sotto farmacovigilanza si stanno continuando a vedere nel corso degli anni quello che succede. Quindi è qualcosa che viene eseguito anche nel tempo questo. Quindi sono dei miei. Poi, senti, se noi allora vogliamo entrare in questo delirio antiscientifico da una parte o complottistico dall'altra o negazionista dall'altra per cui neghiamo tutto e tutto un complotto sono tutti corrotti allora questa è un altro piano di discussione. Le diamo fiducia alle istituzioni diciamo che l'EMA e l'FDA sono corrotti che sono al soldo delle multinazionali e innestiamo il mechanism del genere miniamo alla base il sistema democratico. Lasciamo perdere. ci sono delle istituzioni che dicono questo io, proprio per le ponere che sto facendo sarò nel momento in cui l'AIFA che poi non è neanche l'AIFA l'EMA europea, l'FDA, l'AFMI approvano il farmaco. Io sono il primo a farlo. E l'altra cosa che la gente non sa è che non è vero che sono dei documenti segreti. tutti i dati della sperimentazione clinica sulla base dei quali si fanno le approvazioni o i blocchi l'EMA e l'FDA sono pubblici bisogna andare a cercarli ma sono pubblici quindi i dati sulla base dei quali l'EMA ha approvato il vaccino sono pubblici si possono andare a vedere e uno scienziato li può andare a valutare a valutare hai fatto molta chiarezza perché c'è in giro veramente molta confusione anche alimentata spesso purtroppo dai mezzi di informazione quindi non è sempre facile soprattutto con la paura in corso che abbiamo un po' tutti insomma tu poi sei esperto di come dire di vigilanza perché essendo le tue terapie all'avanguardia immagino che siano sottoposte a una un'eurocrazia di vigilanza molto stringente giusto? non solo la vigilanza di quelle che mi hanno approvato ma io non so bene che cosa mi chiede l'interregolatorio su sicurezza ed efficacia e mi fa diventare matto cioè la quantità di dati che devo produrre per sicurezza ed efficacia mi fa diventare matto quindi e se non c'erano quelli non mi approvano ecco come valuti questa situazione italiana in cui i medici la medicina sembra che per certi aspetti abbiano preso anche qualche batosta anche qualche come dire colpo che ha tolto un po' di credibilità mentre ascoltando te è tutto un altro discorso insomma è come se il timone tornasse a puntare nella direzione giusta ma questo è uno dei motivi per cui io mi sono tenuto bene alla larga da questa cosa nonostante sia una persona che faccia parecchia divulgazione faccio parecchia divulgazione scientifica sia nei licei spesso nei giornali poi sai io sono il co presidente dell'associazione Luca Coscioni per la ricerca per cui anche su tutto il discorso delle staminali ma anche su altri argomenti spesso intervengo perché allora diciamo che uno degli errori non è il solo ma uno degli errori che è stato fatto dal mio punto di vista in questi mesi è stato quello di di avere avuto parecchi esperti che hanno invaso campi che non conoscevano questo nella 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 consapevolezza della della popolazione non è che è ovvio cioè se parla uno scienziato in televisione una persona che non è una persona di scienza esattamente no che può essere un ingegnere può essere anche un avvocato può essere anche il panettiere può essere anche chiunque non è che ha necessariamente la capacità di distinguere dove finisce la competenza di un virologo dove comincia quella di un epidemiologo dove va quella di uno statistico e quella anche di un clinico per cui spesso spesso e questa è la tendenza che io vedo ho visto parecchie volte nella mia attività io sono un medico vedo che spesso i clinici invadono campi scientifici di cui non sono molta conoscenza che ti posso dire un bravissimo rianimatore un bravissimo anestesista un bravissimo parlo di un bravissimo una persona che ti tira fuori la persona dalla tomba non necessariamente ne capisce in maniera approfondita per esempio dei meccanismi di risposta immunitaria al virus e gli immunologi non necessariamente capiscono quali sono i trend di epidemie che invece molti scienziati che lavorano con i numeri capisco questo ha creato dei problemi e gli errori che noi abbiamo fatto in estate derivano anche da questo da questa commissione e da questo eccessivo numero di tecnici eccessivo che ha parlato troppo in televisione troppo frequentemente spesso dando delle informazioni contrastanti anche perché non si rendono conto che io posso capire cosa c'è nel cervello di chi comunica ma devi capire che cosa recepisce la persona di quello che tu dici questa è una cosa più difficile e per questo vago senso di eliminazione che noi abbiamo avuto a luglio agosto con delle affermazioni anche improvvide ha fatto ripartire l'infezione mentre c'era tutta un'altra categoria di scienziati che magari non è capace a fare rianimazione che diceva attenzione che non è così perché ci sono tutta una serie di indicazioni che ci dicono questo molti paesi questo non lo hanno fatto io uno dei paesi che si è comportato meglio tutta questa storia secondo me è stata per esempio la Germania ha avuto una istituzione il Koch Institute che ha preso in mano la situazione e ha fatto questo ma anche come gli Stati Uniti saperne che cosa è successo poi perché però negli Stati Uniti l'NIH Fauci ha preso in mano questa situazione qua era lui che cosa c'era poi che Trump non c'è stato a sentire questo è un altro discorso però noi abbiamo avuto forse uno dei motivi diciamo faccio tiro su una motivazione di autocritica verso la mia categoria di scienziati poi c'è degli altri ovviamente che ha contribuito a questa confusione mi sembra molto chiaro io ti ringrazio veramente tantissimo per la disponibilità per la chiarezza e anche per l'amore per la scienza che hai suscitato io credo che appunto lo scopo per cui noi facciamo queste iniziative è esattamente questo insomma non facciamo passerelle non facciamo eventi show così ma cerchiamo di fare in modo che la gente sappia dove andare a cercare le informazioni come discernere in questo mare così frastornante di informazioni vere non vere semivere eccetera e avere dei fari che ci danno queste indicazioni per noi è molto importante ti ringrazio tantissimo e hai già guardato sulla cartina dove è Brugherio perché devi venire quindi vi raccomando io ero già pronto e lo so eri già pronto l'ultima cosa che ti chiedo è che anche per il tuo laboratorio immagino per le tue culture questa questione del covid ha messo un po' in pericolo è così? assolutamente assolutamente perché noi abbiamo il doppio problema abbiamo il problema di mantenere il covid fuori dal centro sì esatto il covid il covid anche lì stiamo accorciando i termini covid è la patologia è la malattia sì il virus fuori dal sì scusami e la e la e la malattia eh il virus fuori dal centro di medicina degenerativa ma abbiamo anche il problema problema l'abbiamo risolto ovviamente che noi facciamo le colture per i pazienti eh quindi da un lato ho messo su un sistema di controllo di ingresso di tracciamento interno per cui siamo riusciti fino a questo momento a fare in modo di beccarlo prima che entrasse il virus dentro il centro dentro il centro di medicina degenerativa che siamo riusciti a non chiudere mai eh e non a interferire troppo con le nostre attività e dall'altra abbiamo avuto su un sistema di controllo proprio sulla presenza o assenza eventualmente del coronavirus in tutte le colture che facciamo anche per i pazienti adesso non c'erano neanche che ci hanno chiesto niente di moratori l'ho fatto noi di scrupolo per cui sappiamo che tutto quello che noi facciamo per i pazienti è tra virgolette free non tra virgolette nessuna virgoletta è free certificato esatto il fatto di essere libero da così quindi sì ed è stato questo un impegno molto forte sia poi con un paio di persone che che devono stare appresso a questo monitoraggio questo tracciamento costante anche del personale che deve uscire dal centro di medicina certamente mi crede Luca grazie mille grazie di cuore Brugherio ti aspetta a braccia aperte grazie grazie a voi non so quando sarà ma quando sarà verremo ad ascoltarti e grazie ancora grazie 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 a tutti